amore come siamo magri stasera cioè oggi mi state guardando attraverso il muro che bello che sei tu quanto sei bello lui è una cosa incredibile lui era 40 kg un anno chiuso è stato in casa ma qua ci sono dei cucciolotti il cucciolo ma non ce n'è più di cucciolo è così bello